Questa sera ho il piacere e l'onore di avere accanto a me Mina Welby, una grandissima e straordinaria donna. Una donna molto dolce, dal viso veramente molto dolce, molto gentile, molto educata, ma nello stesso tempo immagino anche molto forte. Soprattutto perché la storia di Mina Welby la conosciamo tutti. È stata la moglie di Pier Giorgio Welby, il quale ha dovuto purtroppo subire una malattia, perché le malattie purtroppo non vengono così, si subiscono. Una malattia difficile, non facile sia per chi purtroppo ce l'ha, e neanche facile per i familiari, per chi quindi deve starli accanto. Sia moralmente che fisicamente. Mina, grazie di essere qui con noi e benvenuta su HTO. Grazie, grazie mille anche per questo poter parlare. Grazie. Allora Mina, io prima di tutto vorrei parlare dello spettacolo, quindi poi magari parliamo anche un pochino più di te. Allora, noi questa sera vedremo lo spettacolo teatrale Sospesi tra terra e cielo, dedicato sia a Pier Giorgio Welby che a Eluana Inglaro. Cosa ti sembra questo spettacolo? Cosa ne pensi? Allora, è uno spettacolo che è organizzato da un'associazione culturale, Immaginarte, che sono delle persone che fanno spettacolo proprio per sensibilizzare le persone, perché proprio lo spettacolo, l'arte, scava dentro l'uomo, nei cuori, nella mente e muove veramente anche delle note dentro di noi, delle parti del nostro essere che soltanto un ragionamento o semplici parole non smuovono. Quindi in questo spettacolo c'è musica, c'è suono, c'è gesto, la mimica e tutto questo insieme veramente avvicina le persone alle tematiche. Loro lo fanno anche per tutte le varie tematiche di attualità, sui diritti in modo particolare, qui in questo caso proprio sul diritto di autodeterminazione delle persone. Loro l'hanno fatto anche per le copie omosessuali, per le persone omosessuali e per altre situazioni che hanno difficoltà di essere nella nostra società. Tu stai portando avanti una battaglia, non sei da sola naturalmente, sul testamento biologico. Ci spieghi bene che cos'è il testamento biologico? Sì, io sono co-presidente dell'associazione Luca Coscioni e come tale, insieme alla nostra associazione, noi portiamo avanti già da molti anni, già da quando Pier Giorgio era co-presidente, prima di me, voleva veramente anche parlare non solo di testamento biologico, ma in genere sul fine della vita. Quindi testamento biologico significa disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari, cioè noi disponiamo per iscritto come voler essere curati o non curati. Quindi questo è il significato. Ma oggi è possibile fare un proprio testamento biologico in Parlamento? Che cosa si dice? Allora, il testamento biologico si può benissimo scrivere, lo può autenticare un notaio, lo possiamo fare autenticare con atto notarile sostitutivo nei comuni, dove esiste. Dove non esiste ci vanno, per esempio, semplicemente i cittadini, lo depositano al protocollo, lo fanno protocolare e lo consegnano. Questa è una testimonianza di queste persone che vorrebbero una legge, perché questi testamenti biologici che oggi vengono redatti non hanno forza legale. Quindi un medico, se vede le cose che hanno scritto le persone, può assolutamente tenerne conto, perché c'è già scritto nel codice deontologico medico. Quindi già c'è qualcosa. Quello che dice il Parlamento è il Parlamento, in Parlamento c'è in un cassetto un DDL, un disegno di legge, il disegno di legge Calabro, che è stato discusso in Senato prima, è stato votato, è stato mandato poi in Camera dei Deputati, dove è stato peggiorato, e ora è poi tornato in Senato, dove sta lì nel cassetto, io spero, morto, perché è veramente, sarebbe diventato una legge che avrebbe espropriato a noi la libertà di scelta alla fine della vita. Pio Giorgio parlava non di dignità di morte, ma dignità di vita, perché effettivamente bisogna avere dignità nella vita, quindi perché soffrire e soffrire in un determinato modo, non poter parlare, non potersi muovere, rimanere fisso in un letto, essere dipendenti completamente da altre persone, non è facile, sia per chi appunto ha questa malattia, nemmeno per chi lì è accanto. Tu come hai fatto? Allora, io ho conosciuto Pier Giorgio quando ancora camminava, e camminava male, e poi ho capito, e lui mi ha spiegato, che era affetto di distrofia muscolare, progressiva. È una malattia alla sua, dove si può arrivare anche a 80-90 anni, solo lui aveva una complicazione nel suo gene, che poi ha portato anche all'insufficienza respiratoria. Quindi noi, quando ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto una bella vita insieme. Lui in quel periodo era tossicodipendente, si stava disintossicando. Questo ci siamo riusciti, con tanta tanta pazienza, e proprio questa mia rilassatezza, il mio modo di approcciarmi senza costrizione, lo ha convinto, lui si è convinto, autoconvinto, di diminuire sempre di più il metadone che stava prendendo in quel periodo, e poi a un certo punto non prendeva più nulla, e non ha mai avuto un ripensamento. E poi, sì, siamo andati a pesca, siamo usciti, abbiamo cercato in tutta la nostra vita di migliorare le difficoltà, di togliere tutti gli impedimenti per uscire, per muoverci, per fare le cose. Quindi abbiamo inventato sempre insieme nuove cose per essere più indipendenti possibili. Noi non avevamo, fino al 1997, non avevamo assistenza domiciliare. Io avevo lasciato il mio lavoro di insegnamento e lavoravo insieme a lui, abbiamo fotografato, lui ha dipinto, io l'aiutavo anche a mischiare i colori, facevo il garzone di bottega. Ecco, abbiamo anche sfonato insieme l'armonica, qualche volta, quando il gatto ce lo permetteva, perché poi mordeva le gambe, non lo sopportava. Insomma, era veramente una bella vita. Poi, sì, nel 1997 l'insufficienza respiratoria, quello poi ha portato altre difficoltà. Però ancora quattro anni, siamo andati avanti molto bene. Alla fine, a un certo punto, Pier Giorgio mi ha detto, adesso non c'è più nulla da inventare e dobbiamo capire che è tutto finito. Questo per me è stato una cosa atroce, perché mi sembrava che ancora si poteva vivere. Io volevo ancora arrivare alle nozze d'oro, pensa un po'. Insomma, sì, le nozze d'argento le abbiamo fatto, anzi, lui le voleva fare in anticipo perché dice, non lo so se arriviamo a 25 anni di matrimonio, ma ci siamo arrivati. Che bello, insomma. No, abbiamo avuto una bellissima vita. E certamente poi, alla fine, lui ha voluto dire basta e non voglio più continuare in questa sofferenza perché non riusciva più a dormire di notte, aveva dolori tremendi sul petto. E lui, come co-presidente, si è appellato poi ai radicali, aiutatemi, trovatemi un medico che mi accompagni e mi aiuti a terminare questa sofferenza. E poi ha scritto al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica gli ha risposto che lui certamente non può direttamente fare le leggi perché non è il suo compito, questo Pier Giorgio lo sapeva, però che spera che il Parlamento faccia dei passi importanti che diano queste possibilità alle persone. Passi di civiltà? Passi di civiltà, sì. Ma il Parlamento è stato quantomai incivile e si sono messi a litigare, anzi, ci sono stati dei parlamentari che hanno detto anche cose veramente offensive, ma se lui vuole dare un taglio alla vita è perché non l'aiuta la moglie. Ha detto un parlamentare, sono delle cose che poi feriscono veramente moltissimo. oppure che è stato detto ma se Welby avesse più attenzione e più affetto queste cose non lo chiederebbe. Questa era un'offesa veramente a me perché più affetto di quello che gli davo non potevo veramente dare. Ho cercato veramente in tutti i modi di migliorare la sua situazione e di farlo stare il meglio possibile. Anzi, lui una volta mi disse, tu col tuo sorriso ebbete che mi giri intorno al letto, ma che credi che con questo io sto meglio? Io gli ho scritto, per scritto gli ho mandato una risposta. E gli ho detto, gentile signor Welby, lei sarebbe più felice se io girassi intorno al suo letto con gli occhi gonfi di pianto, fossi triste e non dormissi la notte, eccetera. D'altra parte è stata proprio lei a insegnarmi come prendere le cose, come vivere anche le insoddisfazioni, i dolori e le difficoltà. Io li vivo così e voglio dare veramente e farle vedere che ho imparato da lei. con tanti saluti. E lui mi diceva, e vabbè, c'hai sempre ragione tu. Mina, a proposito appunto di quello che è stato detto da alcuni parlamentari, da gente, vorrei chiamarla ignorante, insomma, che ignora questo tipo di malattia. Perché chi ha vissuto questo tipo di malattia può capire che cosa appunto si può provare in quei momenti, in quei giorni, in quei mesi, in quegli anni. Chi non sa che cos'è, cioè lo ha solo studiato, letto, sentito dire, non può capire quello che appunto si prova e quello che si soffre. Quanto, che cosa ti ha più appunto, cioè ti hanno ferita, ti hanno umiliata, ti hanno, tra virgolette, insultata. Come hai fatto ad accettare tutto ciò? Ma, guarda, io dico semplicemente una cosa. Io ho visto in questi modi di approcciarsi a queste difficoltà, insomma, alle persone in questa sofferenza, non lo riferivo soltanto a me e a noi, ma qui ho detto questo è un gravissimo errore perché queste persone non vedono la difficoltà delle persone, non hanno il senso della compassione, cioè pattire insieme. Non c'è amore in queste parole, ma è il voler, cioè loro preferirebbero vedere persone che stanno lì, soffrono, vederli soffrire. Insomma, è un modo di, come si dice, non masochismo, auto... Sadismo? Sadismo, sì, sono sadici. Ecco, questo è un sadismo veramente, è un... che ferisce veramente tanto. E io credo che a questo tendono in modo particolare persone molto religiose, purtroppo, perché vorrebbero pensare che la sofferenza dovrebbe essere quello che devono ammirare in qualcuno. ma questo è sadismo, veramente vero sadismo, perché io credo che la cosa giusta è questa, che ci si approccia e si cerca veramente la via d'uscita della sofferenza. E la via d'uscita, in quel momento, era solo quello, il morire, perché non c'era più altro da fare. Non c'era altro. Perché poi oggi, una volta magari, le persone quando avevano gravi malattie, per esempio la distrofia muscolare, se ti veniva l'insufficienza respiratoria, morivi. Sì, era atroce, però erano degli attimi dove poi finiva la vita. Però i medici magari aiutavano addormentandoti, sedandoti. Oggi ci sono i macchinari che portano avanti per anni e questo poi viene ammirato. Sì, queste persone sono da ammirare. Sì, anch'io li ammiro. Però io devo anche cercare di togliere loro il più possibile la sofferenza, perché l'hanno scelto loro. Ma ci sono purtroppo anche di quelle persone che non lo scelgono loro, ma gli viene proprio imposto, perché il medico non è disposto a non fare l'intubazione. E quando una volta il malato è intubato, anche se chiede di non fare la tracheotomia, è raro che un medico non lo faccia. Purtroppo è così. Nonostante che i medici lo dovrebbero fare quando i malati lo chiedono. Io ho delle testimonianze, per fortuna, di persone, ma solo di poche, che hanno chiesto dopo l'intubazione di essere sedati e lasciati morire. Ho due casi che mi sono stati raccontati dai medici stessi e di questo sono stata molto soddisfatta. Invece ho avuto altre notizie, altre veramente sofferenze espresse da parenti, dove il malato è stato costretto a subire il sondino nasocastrico. Persone di più di 90 anni è una tortura. Una persona a quell'età ancora se riesce a inghiottire poco in continuazione si sta spegnendo, si sa. Il morire è una cosa naturale. e anche il diminuire la nutrizione e l'idratazione tutto questo aiuta il corpo a produrre endorfine che ti addormentano e tu te ne vai lentamente. I medici questo dovrebbero fare, aiutare queste persone con affetto, i parenti con affetto di stare vicino a questi malati e non metterli in un RSA dove sono le file di malati e si mette nelle varie sacche si mettono quel medicinale quel composto artificiale di una nutrizione artificiale che viene dalle case farmaceutiche e queste persone portano avanti veramente tante sofferenze. È molto più bello anche per le persone con un sorriso un cucchiaino di acqua un cucchiaino di tè una cosa dolce anche un pochettino di vino i sapori che loro amavano e io credo che queste persone in questa maniera sentono ancora l'affetto e poi ci sono cure palliative i medici ne hanno a disposizione tantissimi modi di aiutare queste persone per morire veramente in modo buono anche se possiamo dire la morte non è mai buona perché morire non è un divertimento Pier Giorgio diceva morire non è uno scherzo dico lo so che non è uno scherzo quando appunto Pier Giorgio ti ha detto che aveva preso la sua decisione quindi quella che avrebbe voluto lasciarsi morire lasciarsi spegnere come hai reagito insomma saresti comunque rimasta da sola ci vuole coraggio ad accettare la scelta del marito mi ci è voluto tantissimo coraggio io prima di tutto per me era difficile accettare che lui voglia andarsene voglia morire per me era inconcepibile perché tutte le mattine si faceva fare la barba si faceva mettere il dopo barba naturalmente non alcolico perché se no gli faceva male nell'astomia voleva essere lavato mettere un deodorante voleva scegliere lui quale camice e quali calzini che dovevano essere intonati anche con i pantaloni e quindi per me era inconcepibile che una persona che ancora ha tanta cura per se stesso di di voler morire era inconcepibile e d'altra parte poi anche quello ci volevamo veramente tanto tanto bene sentire che voleva andarsene per me era difficilissimo ho dovuto lavorare intensamente su me stessa e poi alla fine ci sono riuscita ma tre giorni prima soltanto mi sembrava di entrare in un in un tunnel e mi sembrava di essere condannata a morte perché io sapevo che quel mercoledì sera 20 dicembre sarebbe stata l'ultima sera che stavamo insieme ti manca tantissimo veramente tantissimo però sai che ti dico molto spesso ho come dei segnali come se fosse vicino come se lui mi mandasse dei segnali quando vedo mi chiamano su una una città vicino al mare i diversi tipi di colore del mare che lui mi ha insegnato a vedere il viola del mare il rosso il blu il grigio tutte quelle nuance che che lui mi aveva insegnato vedi lì il viola il viola il giallo dove si ma non vedi lì vedi le onde come si muovono insomma era era veramente molto 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 bello stare insieme a lui e ascoltarlo da quando Pier Giorgio non c'è più secondo te tra la gente è cambiato qualche cosa per quanto riguarda appunto questo tipo di morte quindi il decidere della propria morte il decidere della propria vita cioè se io non sto bene sono malato sono malato grave so che per me non c'è via di scampo quindi non non potrò ritornare più come prima quindi decido di mettere fine alle mie sofferenze secondo te la gente ha iniziato a capire queste cose qui? ma guarda io sono sicura che la gente l'abbia sempre capito solo che tutti se lo tenevano dentro era una cosa che gli altri non dovevano sapere noi l'abbiamo fatto capire abbiamo fatto vedere che si può anche parlare e forse il parlare di queste cose aiuta tanti altri a prepararsi a quello che poi magari speriamo di no ma a molti serve poi la vita e io credo che la morte specialmente nel nostro paese è ancora un grande tabù però il parlare della gente le discussioni adesso dove si parla dove vengono le persone anche nei convegni anche qui alla performance teatrale quindi le persone vogliono anche sentire anche sentire parlare del morire della morte quindi sapere che possono essere curate le malattie possono essere guarite ma non tutto può essere guarito non possiamo essere guariti per non morire questo non succederà mai l'alsiasi malattia porterà alla morte anche le malattie più tremende come la sclerosi laterale emiotrofica la distrofia muscolare e altre malattie gravissime che ci sono però una cosa è importante che queste vite devono essere curate devono essere mantenute indignità le persone devono poter vivere veramente dignitosamente con tutto quello che le persone di cui hanno bisogno e poi certo alla fine anche loro si rassegnano ognuno prende poi quello che purtroppo la vita gli ha servato così tu insieme a Pino Giannini hai scritto anche un libro l'ultimo gesto d'amore ce ne parli prima di tutto voglio chiederti appunto cos'è l'ultimo gesto d'amore qual è l'ultimo gesto d'amore e poi se ci racconti un po' questo libro l'ultimo gesto d'amore e il mio ultimo gesto d'amore era quello di consentire a lui veramente di andarsene gli ho detto l'ultimo sì sono d'accordo con te e per me era importante dirglielo perché lui ha visto la mia grande resistenza e per molti mesi l'ho lasciato praticamente solo in quel senso internamente non l'ho abbandonato anzi ho fatto di tutto per tenerlo in vita e dice Mina non esagerare non esagerare a nutrirmi perché tutto quello che mi dai mi fa soltanto ingrassare ma no ma no guarda c'hai ancora le braccia dici guarda che questo è grasso non è muscolo però è come le mamme quando vedono il figlio che non mangia imboccano e fanno di tutto per fare le cose migliori possibili ecco questo era il mio ultimo gesto d'amore dove alla fine poi mi sono rassegnata e ho collaborato con lui e gli ho detto sì ti aiuterò anch'io io abbasserò il letto in piano così che non avrai sofferenza e sicuramente potrai morire così come vuoi tu ecco nel libro l'inizio è molto semplice insomma si racconta come ci siamo conosciuti poi tutto quello che abbiamo fatto come siamo andati avanti negli anni il nostro la nostra partecipazione poi il nostro entrare nel partito radicale transnazionale e poi diventare del movimento radicale italiani e la fondazione dell'associazione Luca Coscioni lì ho portato anche una lettera di Luca Coscioni ai Nobel dove lui chiede appunto il sostegno lui ha avuto un grande sostegno dei Nobel mondiali proprio per essere riconosciuto un politico purtroppo Luca è stato misconosciuto lui aveva chiesto di poter entrare anche nel Comitato Nazionale di Bioetica e l'aveva chiesto veramente con ragione per la libertà di ricerca scientifica lui aveva fondato questa associazione il 20 settembre del 2002 e ha voluto Pier Giorgio già come consigliere generale Pier Giorgio dice ma io non so non so niente di quello che devo fare ha detto non ti preoccupare te lo dirà Luca quello che dovrai fare e era uno dei primi consiglieri e ne è stato veramente molto orgoglioso e ha poi non solo preso in mano lui per esempio è entrato come ecco anche noi insieme siamo entrati a far parte dei radicali proprio perché volevamo mettere in atto una battaglia proprio per ottenere una legge sull'eutanasia cioè rifiuto delle terapie testamento biologico e anche eutanasia vera e propria come adesso noi abbiamo anche fatto una proposta di legge a iniziativa popolare per la quale noi raccogliamo firme di questo ancora nel libro naturalmente non c'è scritto nulla perché nel 2010 quando è stato stampato ancora non c'era non c'era traccia di questo fatto si parla però di quello che politicamente stava facendo Pier Giorgio lui aveva era riuscito ad avere una legge per il voto dei disabili a domicilio e poi ha chiesto anche la libertà di lettura cioè che i libri possano essere dati anche in modo digitale naturalmente questo ancora non c'è però sono già molti libri che vengono pubblicati sono scaricabili da internet a pagamento è già una gran cosa certo servirebbero anche dei libri non soltanto i romanzi poesie eccetera racconti ma servirebbero anche libri di studi di filosofia eccetera anche questi servirebbero perché le persone quando per esempio un disabile studia sì per lui c'è disponibilità dei libri in forma digitale ma poi dopo è difficile trovarli io spero adesso con i vari ebook che possiamo veramente sperare che tutte queste cose possano essere fatte anche per i disabili come si dice fisici riciechi c'è qualche cosa ma anche lì manca ancora moltissimo ecco tutte queste cose e poi si parla anche in modo particolare del mio modo di considerare la morale che cosa è per me etica per me etica è lasciare libertà dare libertà e vivere liberamente essere veramente libera libero spirito dentro di me e libertà di coscienza e lasciare questa libera coscienza e libero spirito anche gli altri sarei immorale non dare questa libertà agli altri immorale anche ed egoisti esatto esatto perché non si può pretendere dagli altri quello che tu pretendi da te stesso quindi dare la possibilità partecipare dare comunicare agli altri le nostre ricchezze quello che consideriamo le nostre povertà si potrebbe dire agli altri tutto quello poco che noi abbiamo che poter dare agli altri che loro poi lo possano moltiplicare secondo il proprio carattere le proprie esperienze il loro modo di vedere quindi queste cose poi aumentano e io credo che tutto quello che noi lasciamo è quello che poi ci fa vivere in mezzo alla gente in mezzo al mondo allora Mina per concludere io adesso ti chiedo se i nostri amici di HTO volessero avere maggiori informazioni sul testamento biologico e anche su tutte le attività che svolgi e anche quelle dell'associazione appunto di Luca Coscioni come possono fare per contattarti per continuare insomma a sapere tutto ciò che c'è da fare sì allora noi ci occupiamo di molte cose abbiamo un sito www.associazionelucacoscioni.it e lì ci sono poi varie rubriche su in alto una delle quali è soccorso civile sul soccorso civile ci sono varie tematiche cliccarci sopra viene una cascata di indirizzi e ci sono le varie cose che noi facciamo per esempio sulla disabilità le barriere architettoniche se uno ha difficoltà oppure anche per le malattie varie sulla SLA sulle malattie insomma ci sono tutte queste opzioni e scriverci direttamente anche sul sito su info www.associazionelucacoscioni.it lì poi noi rispondiamo e per chi invece volesse dare la sua idea sull'attestamento biologico come può fare? ecco sì ecco anche su quello abbiamo proprio un sito dunque sulla proposta di legge che ha il titolo rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia questo trovate sul sito www.eutanasialegale.it lì trovate tutte le informazioni chi vuole andare ai tavoli a firmare le nostre firme ancora si possono depositare fino a metà settembre in tutti i comuni se in un comune delle persone dove abitano non ci fosse ancora il modulo lo potete scaricare in formato A3 lo portate al comune chiedete in segreteria del comune di vidimarlo e di darlo a disposizione dei cittadini e firmarlo direttamente lì davanti al segretario e poi mandare magari i cittadini del proprio paese della propria città al comune per firmare questa proposta di legge la proposta di legge si può anche scaricare direttamente sul sito e lo potete leggere è appena una bella pagina anzi sono due perché è scritto più grande ma sul formato del modulo ci basta una pagina soltanto ecco che cosa fare chi vuole già fare un testamento biologico non ci sono ancora in tutti i comuni ci sono a Rom c'è un registro nel decimo e nel adesso è il settimo municipio e nell'undicesimo adesso non mi ricordo se è il tredicesimo è diventato o il diciassettesimo questo adesso non mi ricordo e lì in quei posti potete chiedere c'è anche sul sito direttamente scritto come fare e che giorno potete andare a depositarlo quindi poteste anche scaricarlo dal sito dell'associazione Luca Coscioni dove c'è scritto appunto il linee di soccorso civile si può scaricare lo riempite e poi lo potete inviare o potete venire e chiedere magari anche un nostro notaio oppure prendere appuntamento col notaio noi abbiamo dei notai questi lo potete chiedere poi sempre su info associazionelucacoscioni.it e chiedere appunto del notaio l'appuntamento lo fa a un prezzo veramente di di favore sì credo che sono 5 o 10 euro qualcosa del genere mentre un notaio normalmente prende molto di più ecco e però è un testamento biologico autenticato da un notaio e insieme a un vostro fiduciario li presentate da lui e lo potete firmare lì davanti a lui l'ultima cosa che vuoi dire ai nostri amici di HTO quello che vuoi dire tu che cosa devo dirvi io sono molto contenta di aver potuto parlare e se ci volete venire anche a trovare l'associazione Luca Coscioni potete venire a Roma in via di Torre Argentina 76 al terzo piano dai radicali io naturalmente mi associo all'invito di Milna e voglio anche consigliarvi il libro L'ultimo gesto d'amore perché questa frase mi ha colpito molto ed è vero è un gesto d'amore quello di dire sì di accettare le scelte anche della persona più cara della persona che si ama è veramente un gesto d'amore quindi vi consiglio l'acquisto del libro L'ultimo gesto d'amore di Milna Welby con Pino Giannini per la casa editrice edizioni Nobes Amatevi non si spreca mai anche perché dare amore uno all'altro perdonarsi a vicenda andare avanti di nuovo tirare avanti perché non è soltanto amore la prima passione la passione c'è sempre quella va via però ci sono tanti gesti di amore che si possono fare nella nostra vita che danno sempre soddisfazione e danno invenzioni nuove per essere felici e rendere felici altri grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi